Si riparla dell'ex CERCOM, quella grande incompiuta di oltre 20.000 metri quadri di superficie su 22.000 di costruito a pagliare di sassa. L'aspetto nuovo è che il Comune, attraverso l'Aggiunta, ha approvato i progetti di fattibilità tecnica e economica e ha inviato al MIT la documentazione necessaria per partecipare ad un bando nazionale sulla rigenerazione urbana. Per l'ex CERCOM si parla di un importo vicino ai 10 milioni di euro. Ci saranno interventi anche allo Stadio Gran Sasso. Il fabbricato ex CERCOM di sassa doveva divenire un centro commerciale ma non è stato mai completato. Il progetto comunale prevede la ristrutturazione dell'edificio di smesso e la riqualificazione delle aree pubbliche circostanti con l'obiettivo di creare, attraverso il riuso dell'immobile e dei terreni vicini, un polo socioculturale. Oltre alla rigenerazione dell'area, la finalità è anche quella di usare l'ex CERCOM per ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Un fabbricato che ha più di 20 anni di vita e del cui recupero si parla da anni. Centro commerciale, biscottificio, scuola, si è parlato di tanti progetti aleatori senza mai venirne a capo. Oggi di fatto è poco più che un garage abbandonato, distrutto, vandalizzato, con pottegge e puntellamenti post-sisma lasciati lì e incontrollati. La struttura è tornata di proprietà comunale dal 2013. Ora il sindaco Pierluigi Biondi però vuole provare a metterci un punto su questo complesso recupero. Attraverso dei progetti di rigenerazione urbana che consentano anche di recuperare zone ma senza consumo di suolo, riportare a nuova vita delle strutture oggi vuote. In questo senso va il progetto di recupero dell'ex CERCOM per cui partecipiamo a un bando nazionale, quasi 10 milioni di euro per farne un centro sociale, culturale e anche magari un luogo espositivo, fieristico. L'importante adesso è iniziare ad accumulare quanto più possibile nel nostro portafoglio progetti cose che possono essere messe in atto. Se non sarà questo bando ci saranno i fondi della programmazione regionale, ci saranno i fondi del PNRR. L'importante è farsi trovare pronti.